Finalmente ripartita la Superbike e il circuito di Erez della Frontera dopo aver ospitato il Moto Mondiale inaugura anche la stagione 2020 Superbike post lockdown ed è un rientro felice per quanto riguarda la Ducati in Superbike perché Scott Redding si prende tappa e maglia vincendo due gare su tre e andando dunque a conquistare la leadership del Mondiale. Un Mondiale 2020 che sembra più equilibrato rispetto ai mondiali scorsi in particolare quelli dove Jonathan Ray dominava un Jonathan Ray che è riuscito a vincere la gara sprint della domenica mattina ma che esce un po' ridimensionato da questa tappa del campionato mondiale Superbike. Il circuito di Erez che ha cambiato tanti format per quanto riguarda la Superbike, le tre gare per quanto riguarda la categoria regione sono state confermate, per le categorie inferiori invece due gare anziché una sola ma di quelle ne parleremo più in là. Inauguriamo il nostro Racing Podcast con la giusta celebrazione alle prime tre competizioni del nuovo campionato Superbike post lockdown dopo aver collegato tre terzi post in Australia Scott Redding ottiene la prima vittoria di carriera in Superbike nella prima competizione avendo ragione sul finale del Jonathan Ray tanto citato e tanto temuto che sembra evidentemente ancora una volta l'uomo da battere soprattutto per quanto riguarda ancora una volta la Ducati non più con Alvaro Bautista che vi ricordo è passato a Honda. Ma con Scott Redding che con questa V4 Panigale sembra veramente trovarsi a suo agio e vince una gara molto interessante in gara 1 battendo il rivale nordirlandese. Rivale nordirlandese che si però riscatta nella gara sprint della mattina la Super Pole Race avendo un dominio incontrastato sulla concorrenza Scott Redding riesce comunque arrivare a podio in seconda posizione e terzo il sempre più talentuoso Toprak Razgatioglu. uno dei tanti esponenti della scuola turca che con Kenan Sofoglu ha dato il dominio nelle derivate della serie. Jonathan Ray tra l'altro fa un record perché con la vittoria della Super Pole Race della domenica mattina a Erez della Frontera ha ottenuto la novantesima vittoria in Superbike per quella che è senza dubbio uno dei più grandi motociclisti dell'era moderna e uno dei maestri incontrastati della Superbike. Gara un po' scontata ma comunque dominata da Ray per quanto riguarda la Super Pole Race. Gara 3 o gara 2 se vogliamo chiamarla così come è giusto che sia vede un trionfo ancora una volta di Scott Redding che grazie a questa vittoria allunga ulteriormente a 24 punti il distacco sul rivale Jonathan Ray. ma io da tifoso Ducati sono veramente molto contento perché Chad Davis rientra nei ranghi che lo competono e permette al Ducati ufficiale Team Aruba di eseguire una doppietta di fare primo e secondo in una giornata trionfale per la scuderia di Bologna alla Ducati. E terzo ancora una volta Razgatioglu che conferma di essere uno dei potenziali contender non solo forse per questo titolo mondiale ma anche probabilmente per il futuro. è un campionato Superbike veramente equilibrato che interessa a me personalmente molto di più della MotoGP. Come ho sempre detto c'è sempre il dominatore che qui è Jonathan Ray ma come abbiamo visto sia in Australia che un pochino meno qui a Erez perché comunque i vincitori sono stati dominanti. Ci sono tanti piloti che si giocano il podio e possono vincere praticamente 5-6 piloti ogni gara. Insomma è tanto interessante questo campionato Superbike che sarà condensato anche questo e di quello ne parleremo con la grafica di Wikipedia inglese. ma veramente c'è tanta carne al fuoco con Jonathan Ray che deve difendere il suo quinto titolo del mondo consecutivo e Scott Redding che sembra veramente lanciato a vincere un campionato mondiale per la prima volta in carriera dopo se non sbaglio la 125 di anni fa quando di fatto era all'esordio. Però noi tivosi giocati per favore non facciamoci la testa perché anche l'anno scorso Bautista con Ducati fece faville in questo circuito e non solo e poi sappiamo tutti come andò a finire. Passiamo allora al riassunto delle gare di Erez della Frontera che dunque vanno al riavvio del campionato Superbike dopo la gara australiana. Usciamo appunto da Erez della Frontera con tappa e maglia per Scott Redding con due vittorie e un secondo posto, 98 punti per il pilota inglese. Al secondo posto c'è Jonathan Ray con 74 punti, Jonathan Ray perde di stacco per quanto riguarda una gara 2 veramente orrenda per le sue caratteristiche. Un solo sesto posto per lui addirittura abbattuto dal suo campionato di squadra Alex Lowe che anche lui esce con le ossa molto rotte e ridimensionato perché il pilota fratello di Sam era il leader del campionato prima ovviamente della pausa dal lockdown. Dicevamo gli altri risultati, Alcateoglu fa podio in gara 1 come abbiamo visto, si ritira in gara sprint perché appunto ha un inconveniente. Terzo posto per Michael Vandermark che risolleva una Yamaha che per la sua prestazione personale lo vedrà all'ultima stagione della carriera. L'anno prossimo Vandermark andrà in BMW. Tanti spunti di cui parlare in questa gara della Superbike, ci sono tanti driver del giorno e li nominerò tre per weekend considerato che appunto la Superbike ha effettuato tre gare. Parentesi però intanto sugli altri risultati, in particolare sugli italiani il migliore è stato sicuramente Michael Ruben Rinaldi che con la Ducati privata del Team Go11 fa un sesto e un quarto posto suntuosi in gara 1 e in gara 2, purtroppo un dicesimo nella gara sprint che però non dà punti. C'è stato il ritorno di Marco Melandri che ha fatto una prestazione orrenda in qualificazione partendo diciannovesimo nelle gare comunque dove contano più punti ottiene un ottavo e un nono posto, anche lui con la Ducati privata vi ricordo Melandri corre per il Team Barney, quello che fu di Leon Chemier nella prima gara australiana. Gli altri italiani Federico Caricasulo purtroppo non arriva a punti, finisce letteralmente ai suoi margini ed è un peccato per quello che fu il runner up del campionato scorso di Supersport. Ultimo italiano, anche lui un esordiente, Lorenzo Gabellini con la Honda privata del Team Altea, una moto molto inferiore rispetto alle altre, finisce anche lui ai margini della classifica 17esimo, 20esimo e 19esimo i suoi piazzamenti. Dicevamo è un campionato comunque molto equilibrato, ci sono tre costruttori praticamente, non dico sullo stesso livello ma comunque che se la possono giocare tutte le gare e sono ovviamente Ducati Yamaha e Kawasaki ovviamente con gli uomini di punta che possono essere sicuramente Redding per Ducati, sicuramente Toprak Razgatioglu per la Yamaha e sicuramente il cannibale Jonathan Ray per quanto riguarda la Kawasaki. Manca un pochino BMW che con quest'uomo ovvero Tom Sykes si dimostra ancora una volta una moto da qualificazione perché Tom Sykes partiva in prima fila e dunque un piazzamento molto interessante per gara 1, peccato che Tom Sykes ha problemi di gestione gomme e anche di passo gara nel lungo periodo e stesso discorso si può fare per il suo campionato di squadra ovvero Eugene Laverty che ha fatto punti solo in una gara su tre. È tornata la Honda a discreti livelli con ottimi piazzamenti in Top 10 sia per Bautista che per Aslam e la Honda potrebbe essere il quarto o quinto costruttore secondo me di punta per puntare a tanta eterogeneità diciamo nelle prime dieci posizioni. Come dicevo prima nominiamo i miei personali rider del giorno e ce ne sono almeno tre io faccio un podio per quanto riguarda le tre gare e poi ovviamente chi non sarà nominato non è perché non ha fatto una buona prestazione ma perché evidentemente ci sono piloti che hanno sorpreso di più e un rider del giorno a me viene in mente quest'uomo ovvero Chats Davis che a Erez della Frontera ha fatto una prestazione degna del suo nome, mi piace tantissimo il pilota gallese viene una stagione 2019 veramente orrenda e terrificante col primo anno di Ducati V4R era molto più competitivo Chats Davis sul bicilindrico qui ha dimostrato di essere tornato il Chats Davis che a me piace e soprattutto con il podio ha portato alla Ducati ufficiale un piazzamento incredibile altro rider del giorno non può che essere l'altro italiano della Ducati ovvero Michael Ruben Rinaldi che di fatto da semi esordiente in Superbike lui è di fatto al secondo anno completo fa sesto e quarto con una Ducati veramente iper privata e se non fosse stato per un passo un po' carente in gara 2 poteva forse addirittura puntare al podio non lo sapremmo mai sarebbe stata una tripletta Ducati veramente clamorosa considerato che Go Eleven è un team ultra privato il terzo gradino del podio del mio rider del giorno lo voglio dare a un pilota che non si è cagato nessuno ma appunto perché ha una moto inferiore e aveva fatto letteralmente un'impresa mi riferisco al pilota francese che vedete qui inquadrato Christophe Ponson Christophe Ponson ha permesso all'apriglia di tornare in Superbike come wildcard la casa di Noale sarà uno dei ritorni importanti per il futuro insieme all'MV Augusta di cui però parleremo in Supersport Ponson di fatto al semi esordio assoluto in Superbike la prima gara fa dodicesimo a punti con un'apriglia privata è una prestazione veramente molto molto interessante e quindi io premio col terzo posto Christophe Ponson pilota francese anche se avrei potuto premiare altri piloti vedi per esempio Garrett Gerloff pilota americano è andato sempre a punti con l'Ian McLean del team GRT insomma tanta carne al fuoco per una Superbike che è finalmente tornata e mi ha fatto tornare un po' la passione per questo campionato Superbike che tornerà a Portimao settimana prossima nello stesso giorno in cui appunto correranno sia Formula 1 sia MotoGP e sarà divertente per me fare tre podcast diversi ovviamente in tre giorni diversi in base alla priorità in quel caso la priorità in caso di eventi contemporanei vi ricordo è Formula 1, Superbike e MotoGP per Scott Redding e Jonathan Ray intanto ha suonato Goz e Dequeer in quanto piloti britannici anche se Redding è inglese e Ray è nordirlandese passiamo alle categorie inferiori perché hanno cambiato format e a differenza degli altri soprattutto per quanto riguarda in Super Sport 600 come vediamo c'è un netto dominatore se in Superbike è stato Jonathan Ray qui il team Barda Levan Brossa ancora una volta è il primo team della classe il team da battere e non ha cambiato modo di interpretare le gare ha cambiato pilota, c'è Andrea Locatelli pilota ex Moto2 domina il pilota per Gamasco le gare di Erez della Frontera due vittorie consecutive sul circuito spagnolo tre totale se consideriamo Filipe Island punteggio pieno per il pilota italiano per lui ha suonato due volte fratelli d'Italia gara è veramente dominata e senza storia tre volte secondo finisce sul Clusel uno dei contender principali a questo titolo del mondo il podio di gara 1 lo completa Filipe Hattel ex Moto2 ha il primo podio in carriera in 600 e terza posizione per Lucas Maia pilota anche lui molto esperto in questo caso Maia corre per la Kawasaki del team Puccetti che comunque fa due podi in due giorni segno che anche la Kawasaki del team Emiliano è uno dei team più importanti in questa categoria c'è da parlare di MV Agusta perché come vedete sono cambiati alcuni risultati perché De Rosa, Fulini e Krumenacker sono stati squalificati dalla gara di Filipe Island per delle irregolarità ai cilindri del motore e De Rosa che con i due quinti posti avrebbe potuto aggiungere il secondo posto del podio di Filipe Island andando più in alto in classifica invece solo due quinti posti e la squalifica purtroppo lo regalano in fondo gli altri italiani Federico Fulini finisce a punti tredicesimo e quattordicesimo primi punti assoluti per Luigi Montella che è un pilota che corre in realtà per il campionato europeo di Supersport purtroppo ha ritirato due volte Axel Bassani che in gara 1 era sesto e poteva ambire a un piazzamento clamoroso in top 10 anche lui corre nell'europeo 600 Supersport mentre in gara 2 si ritira con un inconveniente clamoroso al giro di formazione per quanto riguarda un incidente con Raffaele De Rosa il pilota campano per fortuna non si è fatto niente Bassani invece si ribalta e non deve purtroppo nemmeno partire è un cambiato Supersport che purtroppo è orfano del campione del mondo ovvero Randy Krummenacher che ha rotto i rapporti in maniera burrascosa con MV Agusta perché si parlava di lui in ottica Ducati Barney Superbike Krummenacher ha definitivamente rotto il rapporto e dunque la MV Agusta si ritrova con una moto in meno e senza il dettatore del titolo Supersport dello scorso anno una vicenda abbastanza incresciosa che ha privato secondo me questa categoria di un pilota veramente molto valido Supersport che tornerà appunto a Portimao con il dominio di Andrea Locatelli che speriamo possa continuare in questo modo e vincere meritatamente un campionato Supersport che lo vede evidentemente come l'uomo da battere parliamo velocemente della Supersport 300 che anche in questo caso presenta due gare velocemente la prima gara la vince Unaio Radre pilota spagnolo all'esordio assoluto per lui ha suonato la marcia reale l'inno nazionale spagnolo secondo Tom Boothamos pilota con passato in Moto3 e nel Cev terza posizione per Scott De Rour uno dei veterani di questa categoria pilota olandese gara 2 la vince il nipote di Kenan Sofoglu Bahattin che da pilota a Cerbo dell'anno scorso si ritrova pilota competitivo e con i risultati va al secondo posto nel campionato mondiale e per lui suona l'inno nazionale turco che si chiama la marcia d'indipendenza secondo posto per una delle pilotesse più importanti di questa categoria ovvero Anna Carrasco che è stata campionessa in carica nel 2018 e nelle prime 5 posizioni nel 2019 fa podio 29 punti per lei attenzione ad Anna Carrasco perché può essere una delle contender di questo campionato mondiale Supersport 300 e terzo posto ancora per Tom Boothamos il pilota inglese che con il secondo e il terzo posto è al primo posto di questo campionato del mondo Supersport 300 assieme a un distacco risicato per Bahattin Sofoglu e un Iron Rider campionato veramente molto equilibrato che con questo campionato condensato che di fatto si concentrerà nella perisola iberica con un'escursione in Francia potrà capitalizzare tanto questi punti in ottica al campionato del mondo sono da confermare alcuni round per esempio Villicum e Misano anche se ovviamente è tutto ancora incerto sicuramente scorrerà fino a Magnicour e qui assisteremo a un campionato delle derivate da serie veramente interessante e importante io vi lascio con il podio della Superbike e la classifica del campionato del mondo con Scottone Redding in prima posizione per la gioia mia e di tutti i tifosi ducati secondo posto per Jonathan Ray attenzione però a mai darlo per vinto perché il nordilandese è un cannibale e appena pone da dimostrazione Alex Lowe da primo passa terzo nel mondiale anche se non è completamente tagliato fuori e attenzione anche al quarto e al quinto classificato che sono piloti a tenere d'occhio ovvero Toprak e Chats Davis sono veramente contento di aver parlato di Superbike e ne parleremo anche la settimana prossima una volta terminato il racing podcast della Formula 1 probabilmente il post gara arriverà sempre nella giornata del lunedì prossimo quindi anche lì in post gara del giorno dopo intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo campionato Superbike e saluto da parte di MediTutorial e dunque ci vediamo presto a un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti